Utilizzava l'azienda agricola come copertura per percepire indebitamenti e contributi agricoli, truffando di fatto lo Stato. La Guardia di Finanza della Tenenza di Vittoria, nel corso di attività investigative, ha denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa 16 persone per i reati di truffa aggravata in concorso ai danni dell'Inps, indebita percezione di contributi agricoli e produzione e falsificazione di documenti. L'organizzatore della Truffon, 34 anni di Vittoria, con specifici precedenti penali, avvalendosi di atti falsi, ha creato ad hoc una ditta fantasma utilizzata allo scopo di certificare le assunzioni fittizie e le giornate lavorative dei propri dipendenti. Il modus operandi del giovane 34 anni ha consentito agli stessi dipendenti della ditta fantasma di poter disporre dei requisiti necessari per la richiesta e per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola e l'argita dell'Inps. Le somme erogate indebitamente ammontano a circa 76.000 euro. Le indagini rientrano nell'ambito del progetto nazionale del nucleo speciale, spesa pubblica e repressione frodi comunitari della Guardia di Finanza. Le attività continueranno nei prossimi mesi alla ricerca di altre società fantasme creata allo scopo di assumere fittiziamente lavoratori.